Esprime la propria soddisfazione il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Salvo Siragusa, vicepresidente della Commissione Randaggismo, dopo il risultato raggiunto in tema di tutela degli animali e prevenzione del randaggismo a Palazzo dei Normanni, con l'approvazione di una norma che prevede diversi interventi come l'istituzione di un garante dei diritti degli animali o un contributo di solidarietà per le iscrizioni all'anagrafe canina. Si tratta di un disegno di legge, afferma Siragusa, tanto atteso dalla Sicilia e dai suoi abitanti, e che siamo certi darà conforto ad un fenomeno che in Sicilia ha numeri impressionanti. Fa riferimento anche alla questione abbandoni. Occorre lavorare sul fenomeno culturale, sottolinea, stigmatizzandolo e facendo campagne mediatiche diffuse, specialmente durante il periodo estivo. Ma oltre al fenomeno culturale servono ovviamente provvedimenti per tutelare gli animali e ovviamente i cittadini e le amministrazioni comunali che poi devono farsi carico anche economico del fenomeno. Il Parlamento, prosegue il deputato Siragusa, ha mostrato grande sensibilità sull'argomento e voglio ringraziare a tal proposito la commissione di merito presieduta dal collega Calderone e tutti i deputati che con le loro proposte hanno migliorato il testo in moltissimi aspetti. Rivolge anche un pensiero alle associazioni che hanno collaborato per la realizzazione della legge e a tutte quelle che operano quotidianamente per il bene degli animali. Oggi il Parlamento siciliano conclude Siragusa, ha dato prova di lungimiranza e modernità.